Mi ricordo l'anno scorso, dopo il nostro arrivo contro Milan, in una scuola, due o uno, erano 500 o 600 persone che vogliono picchiare giocatori, vintore e tutto. A scuola hanno un amore troppo grande, e proprio loro o sono in cielo o sono in sotto di terra, mai hanno con piedi sulla terra. Questo è bene, questo impegna molto i giocatori, i giocatori non possono scendere in campo frematici, senza grinta, e quando un giocatore comincia a giocare così, a scuola non rispondono negativi.